Quanta strada che si fa per riempire la cucina, per trovare cose buone da mangiare alla mattina. Quanta strada che si fa per la spesa quotidiana, per trovare cose buone per il fine settimana. In queste giornate in cui siamo fermi per riflettere e la nostra testa è piena di pensieri, ecco un gioco divertente per i nostri bambini per liberare la loro fantasia e l'immaginazione. Bimbi, siete pronti? Provate semplicemente a guardare dalla finestra e a elencare tutto quello che vedete, oppure potreste anche aprirla un poco e cercare di capire i suoni della natura, il canto di un uccellino, il rumore del vento, il rumore delle foglie che suono alla pioggia, il ronzio di una piccola api che si muove attorno a un vasetto di fiori sul balcone. Su un piccolo foglio potrete così annotare il rumore, l'odore, il suono, il colore della natura, che appunto in questi giorni dobbiamo vedere attraverso un vetro. E per i bimbi più piccoli che cosa fare? Quale gioco migliore di Radiozoo? Lo scopo di Radiozoo è proprio quello di far indovinare ai bambini i versi degli animali. L'adulto proporrà inizialmente gli animali più conosciuti, il cane, il gatto, la mucca, per poi aumentare la difficoltà del gioco e arrivare a proporre animali come il pinguino, il gabbiano, il serpente, il leone. Ma il pinguino che verso fa? Per salutarvi vi lancio una sfida. Questo verso di che animale è? Vabbè, torniamo seri. Il gioco è divertente anche in famiglia, ma allo stesso modo può essere usato dagli insegnanti che in questo momento sono alla ricerca di attività da proporre ai bambini a distanza. Troverete questo gioco e tante altre attività a pagina 20 della guida operativa di Mondo Green. E poi tantissime altre sorprese a partire già dalla pagina 21, dove c'è un bellissimo gioco da fare, animali da abbinare ai loro versi e anche a quello che mangiano. Aspetto le vostre risposte e intanto vi ricordo che Mondo Green vi aspetta nelle librerie online. A presto! Buongiorno sono Dino, amico pangolino, indosso la corazza e sono piccolino, la vita è complicata, ta-ta-ta, a rischio quotidiano, no, no, no. Buongiorno sono Dino, amico pangolino, indosso la corazza e sono piccolino, ma io non sparirò, no, 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 se tu mi dai una mano ci sarò. Aiutami a diffondere questa canzone rap, e forse capiranno il problema poi qual è. Aiutami a diffondere questa canzone rap, e forse capiranno il problema poi qual è. Radio Pangolino